Bello questo canto, avete sentito con questo movimento oscillante, ma molto molto sentito. Io vi ricordo che domenica mattina noi faremo in diretta la processione e quello che siamo un conto a Ispica e quello sarà fatto davanti alla chiesa, io qui ho il De Briantino, la chiesa azzurra che sarebbe l'annunziata e ci sarà il famoso momento dell'incontro, ma è anche vero che in varie parti della provincia, ma non solo, noi vi possiamo ricordare le feste più importanti del territorio, Modica con la Vasa Vasa e si fa anche la Vasa Vasa di sera e noi manderemo in diretta dalle venti questa parte della Madonna Vasa Vasa di sera. Poi chiaramente c'è Scicli, Scicli c'è la festa dell'uomo vivo che è molto molto particolare con questo simulacro che corre per tutta la città facendo anche paura, che mi è capitato un paio di volte, vi posso dire che se uno non si scansa non ce n'è. E poi c'è anche naturalmente la domenica a Comiso dove si svolge la pace, ecco questa è la nostra locandina, dove si svolge la pace, la pace a Comiso è particolare perché ci sono questi simulacri con i bambini, con le bambine di Angioletti praticamente e poi c'è questo bacio di fronte alla chiesa. In molte altre località del nostro territorio, anche del territorio siciliano, invece il Clu è il venerdì santo, quindi domani a Vittoria ci sarà la sacra rappresentazione, a Ispica ci sarà una processione particolare, a Ragusa si fa la processione ma niente di particolare e poi però per esempio a Trapani la processione dei misteri, insomma chi vuole può seguire degli appuntamenti molto interessanti. Questa è la festa dei cristiani e ora diceva perché? Perché purtroppo, ma purtroppo voglio dire solo per l'amore per le tradizioni, ormai siamo in una condizione proprio multietnica dove si mescolano le tantissime tradizioni religiose che però poi in qualche modo non vanno tanto d'accordo ma in qualche caso proprio stridono, vanno in contrasto. Per dirvi una, per esempio la Pasqua ortodossa, la Pasqua degli ucraini, la Pasqua dei russi non è il 31 ma sarà la domenica dopo, cos'è quindi il 7? Il 7 è Pasqua ortodossa, questa è sempre una cosa che non riesco a capire per quale motivo si fa sette giorni dopo, dovremmo chiederlo un po' in giro. Per esempio per la regione ebraica la Pasqua non c'è, c'è una Pasqua che dicono loro ma è un altro, si ricordano altri momenti perché per loro Gesù non è nato quindi non può essere Gesù che rinasce. E poi c'è il problema, o meglio c'è il modo di vedere alcune fasi molto intense dal punto di vista della regione che sono il momento islamico. Ora noi abbiamo questa presenza numerosissima di persone che hanno come religione l'islam e lì poi sono accaduti dei fatti un po' particolari. Ricordate per esempio la scuola di non so quale paese al nord che a un certo punto per la giornata del Ramadan ha deciso di chiudere la scuola, come se fosse festa nazionale, come se fosse appunto la Pasqua. E lì c'è da prendere delle interpretazioni, uno dice scusa perché lo fai? Allora se il nostro è un paese laico non si deve chiudere per nessuna festa, no? Pasqua è domenica, vabbè, ma se ci fosse per esempio il Natale, il Natale capita, quando capita è il 25, allora se tu non fai la festa di Natale devi fare anche le feste delle altre religioni, ma non potremmo stare lì a studiare tutte le religioni e capire quando è festa per l'Islam, quando è festa per l'Ucraina, cosa del genere. Quindi bisogna trovare un modo per convivere e questo si deve fare attraverso come è giusto attraverso una serie di sforzi, ma di organizzazioni che cercano di fare incontrare un tavolo, come si dice, un tavolo dell'attrativo, un tavolo per parlare delle diverse etnie e per poter in qualche modo trovare l'integrazione. Noi abbiamo parlato con l'assessore del comune di Modica che si chiama Facello, Chiara Facello, che proprio si è impegnata nella sua città a qualcosa che possa far crescere il rapporto fra le varie popolazioni, le varie etnie che vivono nella città di Modica. Sentiamo l'intervista.